C'è un esperimento che coinvolge migliaia di fisici di 38 paesi differenti, quindi è un evento che è anche proprio dal punto di vista sociale, credo anche umano, particolarmente significativo. Ecco, cosa ci può dire proprio come, oltre che come scienziato, anche proprio come uomo, come persona, il fatto di vivere un'esperienza di questo genere? Ma questa è un'esperienza fantastica anche sul piano umano, non solo sul piano scientifico. Lei deve considerare che in CMS ci sono circa 3.000 fisici, ingegneri, studenti e appartengono, recentemente siamo cresciuti, ora sono 40 i paesi del mondo in cui ci sono collaboratori che partecipano all'esperimento. Ed è un'esperienza sul piano umano incredibile, perché si vede per la prima volta la potenzialità che potrebbe avere il mondo mettendo insieme gente che ha la stessa passione, lo stesso entusiasmo, provenienti da culture, livelli di vita, standard, i più disparati. Basta immaginare noi abbiamo, non so, fisici pakistani o iraniani insieme ai fisici svizzeri o americani, quindi paesi che sono agli antipodi dal punto di vista sociale, economico, culturale, eccetera. Ed è bellissimo vedere, per esempio, c'è un gruppo di fisici iraniani che partecipa allo stesso sottoprogetto di fisici americani. E averli visti gioire insieme quando si sono ottenuti i primi risultati, io non so in quante aree e attività umane si possono vedere paesi che sono in conflitto fra di loro scambiarsi in termini di partecipanti, di persone, diciamo congratulazioni, entusiasmo, vivere le stesse emozioni, le stesse passioni. È una impressione come se fossimo un pochino nel futuro, non solo per le tecnologie che usiamo, che sono quanto di più avanzato uno possa immaginare, ma anche per le relazioni che cerchiamo di stabilire fra colleghi nella comunità scientifica e si ha l'impressione che il giorno in cui il mondo dovesse utilizzare questo stesso approccio per cercare di risolvere i grandi problemi dell'umanità, la mancanza d'acqua o le grandi malattie, forse si farebbero veramente passi avanti. Certo, coordinare un gruppo di persone così eterogeneo credo non sia semplice. Secondo lei che capacità, che competenze ci vogliono per un lavoro di questo genere, di coordinamento di questo genere? Non so rispondere a questa domanda perché alla fine non è così difficile coordinare, perché, come le dicevo prima, siamo tutti talmente appassionati delle cose che facciamo, entusiasti di quello che sta succedendo, volenterosi di dare il meglio di noi per riuscire a scoprire qualche nuovo risultato, che il mio lavoro è più un lavoro di coordinamento e di decisione e di convincimento. Cioè io ho delle idee, le propongo e in generale la gente mi ascolta, più che non un lavoro di imposizione. È come se, io faccio l'esempio del direttore d'orchestra, ho dei bravissimi musicisti, hanno eletto me a dirigere, a dare il tempo e a definire gli accenti dell'opera. In questa parte si va più piano, qui cerchiamo di dare più enfasi. Io questo cerco di fare e funziona perché loro sono altrettanto motivati di me, condividono quello che facciamo, condividono le scelte, diciamo, artistiche nel caso del musicista, le scelte scientifiche nel caso mio, vuol dire le priorità, vuol dire mettere le risorse in una direzione anziché in un'altra. E quindi è relativamente semplice coordinare un gruppo di persone così belle, così entusiaste. Lei immagini che abbiamo mille studenti, quindi studenti di postdoc, quindi è un esercito di menti brillanti con cui è un piacere interagire. Senta, i quattro esperimenti che citavamo prima sono attualmente guidati da quattro italiani. Ora, sappiamo che l'Italia non brilla per quanto riguarda gli investimenti nell'ambito della ricerca. Eppure, quattro esperimenti così importanti li troviamo guidati proprio da quattro italiani. È un caso o questo è un segnale significativo sullo stato della nostra ricerca o comunque dei nostri ricercatori? Sì, è un po' un caso e un po' è significativo. È un po' un caso perché è ovvio che c'è stato un insieme di circostanze fortuite che ha portato ad avere quattro responsabili, tutti italiani, nello stesso momento. Però non è solamente frutto del caso perché dietro c'è evidentemente prima di tutto una buona scuola in fisica, in fisica delle particelle elementari. In Italia c'è una tradizione eccellente. Ci sono delle ottime università, c'è per lo meno una decina di università italiane che sono fra le migliori al mondo. Io lo vedo perché io sono continuamente a valutare studenti e i nostri studenti che escono da Pisa o da Roma, da Padova, da altri che ora non sto a citare, non hanno nulla da invidiare a studenti che escono da Imperial College o da MIT o da Berkeley, per dire. Cioè, fra le migliori università del mondo. C'è un'organizzazione che è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che ha laboratori, strutture, cioè un'organizzazione per la ricerca che è molto efficiente e molto ben organizzata. E ci sono finanziamenti, cioè mentre è vero che nell'ambito della ricerca globale l'Italia non investe abbastanza, nella ricerca in fisica delle alte energie investe importanti quantità di denaro e di risorse. C'è il rischio semmai che ora calino questi, questo è un altro discorso, però finora c'è stato un buon livello e i risultati si vedono. Quindi il messaggio che io ricavo è un messaggio in positivo. Cioè, se l'Italia investisse in ogni settore di ricerca strategico, facesse uno sforzo analogo a quello che ha fatto per la fisica delle particelle elementari e si dotasse di strutture organizzative altrettanto efficienti quanto l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, potrebbe eccellere come un pochino modestamente sta succedendo con gli esperimenti di LHC e col CERN in generale, anche in altri campi, la biologia, la medicina. Cioè io ne ricaverei un insegnamento in positivo. Se si riuscisse come Paese ad afferrare l'esperimento positivo che è stato fatto con la fisica di l'alta energia, lì si è visto che investendo, avendo buone università e avendo una buona organizzazione, l'Italia gioca un ruolo leader e la domanda sarebbe proviamo a giocare un ruolo leader anche nella chimica o nella biologia o nella medicina, in altre scienze in cui non abbiamo lo stesso, diciamo, privilegio che attualmente abbiamo obiettivamente nella fisica delle particelle elementari. Quindi è un giovane che vuole studiare fisica. Lei consiglierebbe comunque di rimanere in Italia a studiare? Sì, io consiglio di rimanere in Italia a studiare, di fare il corso di studi in Italia, può anche fare il dottorato in Italia, ma di andare all'estero o per il dottorato o per la fase successiva al dottorato che abitualmente è una borsa post-dottorato. È fondamentale accoppiare una buona formazione di base, quale quella che danno le nostre università, con un'esperienza all'estero. È fondamentale per aprire lo sguardo, per confrontarsi con gli altri e poi decidere, a quel punto deciderà lui o lei, se continuare questa attività all'estero o se vorrà tornare in Italia. Tenendo in conto immediatamente che, mentre è facile la formazione e il dottorato è anche una borsa post-doc, è più difficile in Italia offrire a questi giovani bravissimi posti permanenti. Questo è uno dei problemi più grossi che abbiamo. Molti di questi ragazzi e ragazze trovano facilmente lavoro all'estero perché ottengono delle ottime offerte, sono molto bravi, ottengono posti di lavoro anche permanenti in altri paesi, pagati meglio del nostro paese e, questo è un cruccio che ho, il nostro paese non offre a loro altrettanto supporto per chi vuole rimanere in Italia. Lì dovremmo veramente stabilire una politica di assunzione al solito dei migliori. Noi siamo un ambiente estremamente selettivo e competitivo, cioè benvenga il concorso più duro del mondo, benvenga la selezione più dura del mondo, però bisognerebbe offrire a una frazione dei nostri giovani brillanti una possibilità di lavoro nelle nostre università e nei nostri enti di ricerca regolarmente, cioè ogni anno ci dovrebbe essere una chance per qualcuno di loro, i migliori, per ritornare nel nostro paese, dove per esempio gli stipendi salari sono più bassi, ma molti di noi sono molto legati al nostro paese e quindi accetterebbero anche di avere un trattamento salariale inferiore pur di, voglio dire, rientrare fra amici, famiglie, in un ambiente che insomma è la nostra patria. Tornando ai nostri esperimenti dell'LHC, a volte ci si chiede se esperimenti, se valga la pena in qualche modo, portare avanti esperimenti così costosi e così in qualche modo teorici, no? Che affrontano questioni di fisica così lontane, diciamo, da quella che è la realtà, il senso comune, no? E cos'è allora che spinge e quali possono essere le motivazioni per portare avanti questo tipo di esperimenti? Spesso si dice ma portare avanti la ricerca in fisica è utile, però in esperimenti come questi è difficile vedere delle ricadute tecnologiche. Quindi ci sono motivazioni di tipo, diciamo, utilitaristico o ci sono motivazioni di altro genere che effettivamente giustificano un impegno di risorse così elevato? Dunque, qui bisogna distinguere fra le motivazioni personali, cioè gli scienziati, e io cerco di mettermi fra di loro, sono spinti dalla passione della conoscenza, dalla curiosità. Diceva qualcuno che tutti da bambini ci facciamo delle domande. Gli scienziati continuano a farsene anche dopo, anche quando sono adulti, cioè ci domandiamo dei perché. La seconda cosa su cui ragionare sono gli strumenti. Gli strumenti che usiamo sono quanto di più lontano dalla teoria uno possa immaginare. Cioè se lei gira al CERN e guarda CMS o Atlas trova un concentrato delle più moderne tecnologie. I migliori, le migliori fibre ottiche, i migliori materiali, l'elettronica più avanzata. Lì c'è sviluppo in tutti i terreni, cioè per dare risposta a quelle difficili domande di cui si parlava all'inizio. C'è bisogno di spingere la tecnologia al limite, lavorando con le industrie, migliorando le tecniche di produzione, inventando nuovi sistemi ed è grazie a questo che per esempio si sono prodotte, non so, le immagini diagnostiche mediche moderne vengono dallo sviluppo che in fisica è stato necessario per produrre nuovi sensori e nuovi rivelatori. La risonanza magnetica oppure la PET sono prodotti di queste attività di ricerca nella fisica. Quindi c'è un travaso continuo di tecnologie che spesso il pubblico di cui non è consapevole. Per esempio nel suo telefonino lei ha incorporato nel chip che oggi è molto più potente di quello di dieci anni fa. Oggi può fare con il suo telefonino delle cose che dieci anni fa neanche si immaginava e questo è perché in quel piccolo chip che è la CPU e la memoria di base si è prodotto un tale sviluppo di tecnologia anche sulla base delle richieste che sono venute in parte al mercato, in parte dalle scienze applicate più spinte, che si è verificato un progresso tecnologico enorme. E c'è infine un'ultima considerazione da fare. al di là delle tecnologie. La vita moderna per come la conosciamo sarebbe inconcepibile se non ci fosse stata la fisica, le ricerche, le grandi rivoluzioni scientifiche. C'è un momento in cui uno continua a migliorare le candele e c'è un momento in cui scopre l'energia elettrica. Questi sono i salti, cioè sono i grandi salti nella conoscenza che producono le grandi rivoluzioni tecnologiche. Per esempio all'inizio del novecento nessuno poteva immaginare che la meccanica quantistica avrebbe prodotto un impatto nella società. Ma oggi senza meccanica quantistica non ci sarebbe microelettronica. Senza la relatività non potremmo usare il navigatore satellitare per dire. Cioè nessuno può prevedere le ricadute a lungo termine delle rivoluzioni scientifiche. Se però guardiamo indietro nel passato noi vediamo che la modernità di oggi è figlia delle grandi rivoluzioni scientifiche. Da Galileo in oggi. Galileo quando ha osservato i satelliti di Giove non se lo poneva al problema ma nessuno avrebbe mai immaginato che uno scienziato padovano che osserva, Pisano che la caravava a Padova, che osserva dei satelliti in cielo e che dice il libro dice una cosa e io osservo un'altra cosa. Da quella affermazione, il libro la Bibbia, che è anche pericolosa per quei tempi infatti ha avuto parecchie grane, è nato l'uomo moderno. Cioè è nata l'idea che l'uomo può affrontare il suo destino senza vincoli e senza pregiudizi. Quindi l'impatto diciamo tecnologico o di valore aggiunto di quella osservazione di un professore di Padova che guardava il cielo è enorme e così è avvenuto per tutte le grandi rivoluzioni scientifiche da quelle dell'Ottocento, l'elettromagnetismo, la meccanica quantistica, l'attività e questo speriamo succeda ancora con le grandi scoperte di LHC che ci auguriamo avvengano prima o poi. E qual è invece la sua motivazione personale per intraprendere questo mestiere e in particolare perché si è specializzato proprio nell'ambito della fisica delle alte energie? Perché sono le domande di base, cioè cos'è tutto questo che ci circonda, da dove viene, i perché della natura, cioè la fisica vuol dire filosofia della natura. C'è anche un aspetto filosofico questo approccio, è veramente il chiedersi da dove viene tutto questo e continuare a porsi l'antica domanda dei filosofi greci attualizzata con i moderni strumenti scientifici dell'attualità. A volte si ha l'idea che la scienza sia un'impresa, come dire, puramente razionale, no? Perché usa il linguaggio della matematica, perché c'è un'esattezza estrema e così via. Feynman però, grande fisico teorico del Novecento, una volta evidenziava invece l'aspetto emotivo, no? Diceva non si può capire la ricerca in ambito fisico se non si capisce l'emozione che ogni singolo scienziato prova nello scoprire qualcosa di nuovo. Ecco, lei è d'accordo con Feynman? Sì, sì, sono altrimenti d'accordo. Quello che ci spinge in realtà è proprio il, diciamo, l'entusiasmo e la passione che sono appunto fatti emotivi, la curiosità, e dobbiamo continuamente fare attenzione fra, diciamo, il fatto che abbiamo questa grande passione, ma dobbiamo contenerla per essere sicuri che le cose che facciamo siano fatte bene. E lì entra in gioco l'elemento razionale in cui non finiremo mai di fare controlli su controlli di quello che osserviamo. Se uno si lascia tentare o spingere dalla passione fa una scoperta al giorno. Noi dobbiamo sapere e essere umili e modesti che le cose sono molto difficili, è molto facile sbagliarsi e quindi una delle principali preoccupazioni è proprio quella di mettere in campo, e per quello anche siamo tanti, tutti i possibili dubbi. È molto bello se lei potesse partecipare in queste settimane alla vita dell'esperimento perché è una comunità che si interroga. Questo che stiamo vedendo è vero, è falso? Abbiamo dimenticato qualcosa? C'è un effetto che abbiamo trascurato che potrebbe portare a questo e nel 99-99% dei casi si trova che le anomalie, diciamo così, sono in realtà errori che stiamo facendo. Il giorno in cui riuscissimo a guardare come comunità scientifica un effetto e a concludere che non siamo riusciti a ucciderlo, esporlo alla comunità scientifica mondiale che potrebbe trovare a loro volta cose che noi abbiamo trascurato e validare o meno la scoperta, quello sarà un grande giorno. E senta, c'è un dibattito che dura forse da sempre nell'ambito degli obiettivi diciamo della scienza e della fisica in particolare, cioè le teorie fisiche ci rivelano in qualche modo la struttura della realtà, la sostanza della realtà, come diceva Galileo, lo stesso Galileo che è il libro della natura, è un libro scritto con linguaggio matematico, no? Ecco, quindi scoprire leggi naturali significa proprio scoprire l'essenza della realtà naturale, oppure secondo lei queste leggi naturali rappresentano solo un modo per leggere i fenomeni naturali, ma in qualche modo un'essenza del reale in qualche modo ci rimane nascosta. Io ho una mia personale convinzione che la scienza come tutte le creazioni umane è prodotta da omini di antropomorfi, siamo noi, con dei cugini che sono i bonobo, gli scimpanzé, i quali omini di antropomorfi, di Homo sapiens, hanno sviluppato, perché siamo diversi dai nostri cugini? Perché abbiamo sviluppato in milioni di anni probabilmente un enorme e potentissimo attrezzo, anche i nostri cugini usano attrezzi, non so se ha visto le immagini, si devono rompere una noce, usano una pietra, usano bastoni per recuperare cose, usano quindi hanno in visione del mondo anche le altre scimmie antropomorfe. Noi abbiamo questo enorme strumento di aumento della potenza, l'abbiamo sviluppato al massimo ed è la visione del mondo, cioè per costruire un attrezzo devi avere una visione del mondo, cioè io ho un problema, devo rompere una noce, con le mani non riesco a farlo, se trovo una pietra acuminata ma non troppo pesante che posso reggere in mano riesco a romperla, cioè avevo un progetto, ho costruito un'idea, ho ideato un attrezzo, l'ho usato e ho ottenuto lo scopo. Questa è la scienza, la base della scienza, ma è sempre una nostra visione del mondo, non ci dice nulla di quello che c'è al di là di questo, è semplicemente che via via che costruiamo una visione del mondo sempre più sofisticata, e questa è la forza del metodo scientifico. Il metodo scientifico è risultato molto potente perché ogni volta, quando trovi che funziona in un milione di casi e fallisce in uno, tu ignori il fatto che in un milione di casi sta funzionando e ti concentri su quell'uno, perché fallisce in quell'uno, e se fallisce in uno devi trovare un'altra teoria, quindi migliorare la tua visione del mondo, che ti permette di inglobare l'uno e di capirlo. Attraverso questo meccanismo l'uomo ha costruito la società moderna, cioè ha costruito in questa interazione con la natura, ha costruito la tecnologia, ha costruito tutto quello che ci circonda, ma è sempre la nostra concezione, è sempre la nostra visione del mondo, non possiamo pensare di essere andati al di là della nostra, è sempre la nostra congettura, la potenza del metodo scientifico è che è una congettura che quando la applichi o la fai interagire con la natura la puoi mettere a verifica e la puoi migliorare sulla base dei risultati e questo ha dato un'enorme potenzialità a questo strumento, per cui oggi non abbiamo più la pietra per rompere la noce, ma abbiamo lo sciatto, abbiamo la fisica moderna, abbiamo la biologia, la medicina, ma è sempre una nostra congettura, è sempre una congettura di scimmie antropomorfe che attraverso questa visione del mondo cercano di espandere le loro probabilità di sopravvivenza. Un'ultima domanda, il celebre filosofo Wittgenstein una volta scrisse che anche se tutti i problemi posti dalla scienza fossero risolti, comunque i problemi più significativi dell'esistenza non sarebbero toccati. Ecco, lei è d'accordo con questa visione che in qualche modo la scienza, la fisica in particolare, può andare avanti, può scoprire teorie sempre più sofisticate, ma in qualche modo ci sono delle questioni che riguardano in maniera essenziale alla vita dell'uomo che comunque rimangono esterne a questo tipo di conoscenze. Sì, sono assolutamente d'accordo. Infatti una delle, quando facevo lezioni, fino a 4-5 anni fa, ora poi riprenderà fra un po' di tempo, nella prima lezione in cui spiegavo, cercavo di spiegare cosa facevo, io ero un professore di fisica e cos'è la fisica, una delle prime cose, mi ricordo c'era uno sconcerto in classe perché dicevo, attenzione, voi siete abituati a pensare che la fisica possa spiegare tutto, perché questo è un po' il pregiudizio e io vi faccio un elenco di cose per le quali la fisica non è in grado di dire nulla e alcune di queste cose sono importantissime, importantissime per voi, per esempio le vostre emozioni o l'amore che provate per una ragazza o un conflitto con i genitori. In queste cose, o uno possiamo espandere un conflitto sociale, un'ingiustizia, possiamo allargare questo orizzonte, in generale nelle interazioni fra esseri umani, nell'aspetto emotivo, nell'aspetto non quantificabile, non misurabile, in quella irriducibile singolarità che ciascuno di noi è, ecco in questo la fisica non aiuta, ci può dare degli strumenti, ma lì dovrebbe veramente l'umanità fare un passo avanti, cioè io quello che vedo è che gli enormi progressi scientifici che si fanno in fisica e in altre scienze non sono accompagnati da un altrettanto rigoroso e progressivo avanzamento dal punto di vista delle relazioni fra gli esseri umani, fra società, fra gruppi sociali. Lì siamo ancora un po' all'età della pietra, cioè si usano le guerre, si usano i conflitti diciamo più brutali, da scimmia a un tropomorfe giusto appunto per risolvere i conflitti di tipo ordinario. E lì bisognerebbe che ci fosse la stessa aggressività che si mette per sviluppare la visione scientifica del mondo a migliorare gli aspetti etici, gli aspetti morali fra individui e le relazioni fra popoli, etnie, fra gruppi, per convivere diciamo meglio in un ambiente che è fragile e che è estremamente prezioso che è il nostro pianeta. Grazie mille professor Tonelli. Grazie a voi, arrivederci.